Marco Revisore Youssef Quante volte avete sentito nell'ultimo periodo che ormai non si può più dire nulla? Una volta ci si faceva una risata, adesso tutti a offendersi. Questo è un errore di ragionamento. Pensare che prima non si offendesse nessuno. pensare cioè che se prima una cosa non si vedeva e adesso sì significa che quella cosa non c'era ma in realtà c'era e come? C'è sempre stata è che prima non aveva occasione di manifestarsi mi scuso per quello che sto per dire sarò molto schietta ma solo perché voglio essere chiara frocio non si doveva dire neanche negli anni 80 così come negro così come puttana se la sensibilità su alcuni temi aumenta è perché adesso finalmente si sentono le voci di quelle persone che sensibili a quel tema lo sono sempre state una volta le uniche voci che si sentivano erano quelle di chi aveva il potere quindi possiamo dircelo non le donne non le persone nere non la comunità LGBT lesbiche gay bisessuali transgender e altro questo perché era chi aveva il potere a decidere se e quando accendere i microfoni quindi le voci che si sentivano erano sempre le stesse adesso con internet ognuno di noi ha un microfono ognuno di noi può potenzialmente parlare a tutto il mondo ecco allora che su twitter va in tendenza il pensiero di una persona che non ha potere però il potere di dirlo ecco che diventa virale un video di una minoranza che dice le cose così non vanno bene ecco che un'azienda fa una pubblicità sessista omofoba o razzista e fallisce perché milioni di voci che sussurrano che così non va bene fanno un baccano enorme se vengono microfonate qualcuno pensa che per evitare certi scivoloni sia sufficiente conoscere le regole del gioco allora e questa parola non la possiamo più dire e questo stereotipo va smussato un pochino qui qui ragazzi sono tutti maschi ci mettete una donna una qualsiasi ecco se non è bianca meglio dai così siamo un po inclusivi dai ragazzi lo sappiamo come funziona eppure ciclicamente c'è qualcuno che ha potere che conosce queste regole del gioco che si ritrova comunque ad offendere una minoranza e se va bene si scusa senza capire di preciso per cosa debba scusarsi ma almeno si scusa se va male gioca la carta del ma non si può più dire niente cercando di passare per la vittima sapete perché accade perché conoscere le regole del gioco non è sufficiente perché le regole del gioco sono a loro volta governate da altre regole se vogliamo fare un passo avanti dobbiamo conoscere le tre regole che stanno alla base delle regole del gioco regola numero uno se la cosa non riguarda te in prima persona non fai tu le regole vale a dire che non è un bianco a decidere se una cosa è razzista non è un etero sessuale a decidere se una cosa è omofoba non è un uomo a decidere se una cosa è sessista mi è capitato più di una volta di sentire alcuni amici miei neri lamentarsi di cose che per me erano assolutamente non problematiche hai visto la campagna di raccolta fondi per l'africa è così degradante mio cervello andava in tilt come degradante è una campagna di raccolta fondi per l'africa cioè danno i soldi all'africa quella celebrity che continua a mettere foto su instagram di lei con i bambini neri nei villaggi quando è che la smette no scusa ma come quando è che la smette ma questa è piena di soldi potrebbe passare la sua vita in vacanza invece va lì ad aiutare e tu dici quando è che la smette è normale che questa sia la prima reazione che ci sembra di sentire qualcosa fuori testa in realtà lo è è fuori dalla nostra di testa se siamo bianchi per noi quelle cose sono positive quindi quando sentiamo una persona nera lamentarsene è facile pensare che sia troppo sensibile addirittura ingrata questo perché ci dimentichiamo la regola numero uno se la cosa non riguarda noi in prima persona non facciamo noi le regole non è un bianco a decidere se una cosa è razzista perché è difficile riconoscere il razzismo se non ne sei vittima perché non sei allenato a vederlo ci ho messo un po ma ho iniziato a fidarmi di questa regola e anziché dire tu sei matto ho cominciato a chiedere perché perché la campagna di raccolta fondi per l'africa è degradante perché la celebrity che mette le foto su instagram di lei con i bambini neri nei villaggi dovrebbe smetterla la campagna di raccolta fondi per l'africa è degradante perché racconta l'africa sempre solo in un modo cioè come un continente tutto uguale dove non possono salvarsi da soli è degradante perché sfrutta il corpo nero per muovere a compassione una persona per quei due minuti che servono per mandare un messaggino e donare un euro ma non crea alcun cambiamento culturale non fa progredire l'africa e di certo non fa progredire noi la celebrity che mette su instagram le foto di lei con i bambini neri nei villaggi la deve smettere perché si sta atteggiando a salvatrice bianca eccola guardate questo angelo sceso dal cielo per aiutare che brava signora mia guardi potrebbe essere ovunque e invece è lì fa niente se non abbiamo neanche idea di dove sia questo lì e soprattutto fa niente se non abbiamo la minima idea di chi siano i professionisti locali che devono pur esserci che si fanno il mazzo quotidianamente per migliorare la situazione dall'interno e che continueranno a farlo anche quando i riflettori se ne saranno andati perché i riflettori seguono lei non loro quante cose a cui non avevo mai pensato quante donne abbiamo bollato come frigide perché non hanno riso la nostra battuta sconcia quante persone della comunità lgbt abbiamo chiuso nello stereotipo di troppo sensibile perché non sono andate al cinema a vedere l'ennesimo film che le usa come spedienti comici pensate a quante cose avremmo potuto imparare se solo avessimo saputo prima che le regole del gioco se il gioco non riguarda noi non le facciamo noi se avessimo chiesto perché regola numero due se vuoi giocare devi seguire le regole la cosa che mi ha fatto litigare di più nella mia vita è la sequenza di più due più quattro che partono ogni volta che si gioca a uno il gioco di carte ce l'avete presente io gioco un più due e il mio avversario deve pescare due carte invece no lui gioca un più due a sua volta e mi vuole far pescare quattro carte ora non lo puoi fare e non lo puoi fare perché in ogni mazzo di carte di uno c'è un foglietto con delle regole una delle regole dice che se ti arriva un più due tu peschi due carte salti il turno non esiste che cominciamo sta catena di sant'antonio di più due più quattro non lo puoi fare e non voglio sentire ma io gioco così perché allora le regole cosa le fanno a fare e poi anche ammesso di volerle cambiare che non capisco perché perché le regole le fa chi fa il gioco me lo devi proporre prima non che durante tu decidi più due e io dovrei anche venirti dietro fuori di metafora se incontriamo una persona che fa parte della comunità lgbt e usiamo il termine frocio non possiamo aspettarci che questa reagisca bene perché frocio è un insulto e di base non va usato alcuni miei amici gay si chiamano frocio tra di loro all'inizio la cosa mi confondeva è un problema solo se lo uso io a parte che a qualcuno dà fastidio anche detto all'interno della comunità ma comunque un conto è se è un ragazzo gay a usare il termine frocio per depotenziarlo ah tu volevi insultarmi con quella parola ma sprechi il tuo tempo perché mi chiamo già da solo un altro è se io che non faccio parte di quella comunità mi arrogo il diritto di utilizzare quel termine perché i miei amici gay lo fanno o ai miei amici gay non dà fastidio quando lo faccio sì anch'io a casa mia con mio papà ho la regola che i più due più quattro si sommano ma non per questo se gioco con qualcun altro parto dal presupposto che quella che è un'eccezione più che essere una nuova regola vada bene anche per lui questo funziona anche in scala più grande quando ad esempio si pensano dei prodotti film canzoni per la comunità lgbt e si fanno in un certo modo ecco se la comunità lgbt ti dice che quel modo non va bene non hai alternativa al cambiarlo o meglio l'alternativa c'è ed è trincerarsi dietro la giustificazione ormai abusata del ma io l'ho fatto in buona fede ecco la buona fede non funziona per una semplice ragione la regola numero tre le buone intenzioni non sono sufficienti questa è forse la regola più difficile da digerire perché se noi facciamo qualcosa per un'altra persona non accettiamo che qualcuno ci dica che quella cosa non va bene o che addirittura sia controproducente per la persona per cui l'abbiamo fatta in prima battuta e questo perché non ci è chiara una differenza che invece è centrale per comprendere questo discorso e cioè che intenzione ed effetto prodotto non sempre coincidono immaginiamoci la scena incontriamo un'amica che non vediamo da diverso tempo e le diciamo cavolo ma come ti vedo bene sei dimagrita tantissimo e lei ci risponde sì in effetti ho perso parecchio peso perché è un periodo in cui non sto particolarmente bene anzi speravo non si vedesse così tanto la nostra intenzione era quella di farle un complimento perché dire sei dimagrita è ancora considerato un complimento ci vorrebbe un tetto al caparte l'effetto prodotto l'effetto prodotto è un disastro questo fa di noi dei mostri sadici che amano far soffrire il prossimo ma certo che no ma il fatto che noi non volessimo farla soffrire non è sufficiente tanto è vero che lei sta soffrendo comunque certo noi non lo sapevamo non è colpa nostra però rimane una nostra responsabilità perché siamo stati noi a dire quella cosa anche se in buona fede come ne usciamo scusandoci dicendole che davvero non volevamo farle riaffiorare emozioni negative anzi se c'è qualcosa che possiamo fare per stemperare un po' la tensione lo facciamo volentieri davvero scusa la stessa cosa accade quando un uomo nel tentativo di fare un complimento a una donna finisce per avere invece un atteggiamento molesto giusto l'altro giorno guardavo i messaggi sul mio instagram ne ho trovato uno di un ragazzo che mi diceva quanto fossi bella e quanto gli piacessero le mie labbra carnose ora io non conosco le intenzioni di questo ragazzo voglio essere ottimista a pensare che fosse il suo tentativo di farmi un complimento ciò nonostante io mi sono sentita molto a disagio era mattina avevo appena preso in mano il telefono la prima cosa che ho dovuto vedere è stato questo messaggio da parte di uno sconosciuto l'ho vissuta veramente come un'invasione del mio privato ma perché me lo stai dicendo? ma perché pensi che mi interessi? se siete uomini parlate con le donne della vostra vita avranno tutte tutte una storia simile da raccontarvi e moltissime di loro utilizzeranno le stesse parole mi sono sentita sporca in colpa responsabile piena di vergogna capite che le buone intenzioni non bastano se una donna vi dice io mi sono sentita a disagio il vostro ma io non volevo ha senso solo se volete far sapere la vostra intenzione non se pensate che questo vi renda immuni alle critiche eppure ogni volta che accadono scivoloni del genere nel pubblico e nel privato la tiritera è sempre la stessa io l'ho fatto in buona fede quindi se tu l'hai vissuta male il problema è tuo che sei troppo sensibile ecco no se vuoi fare qualcosa di utile per un'altra persona devi partire dal presupposto che lei sappia meglio di te come si possa fare devi fidarti di quello che ti dice e se sbagli ed è umano sbagliare devi chiedere scusa e riprovare se ti interessa giocare a questo gioco se no puoi sempre proporne un altro uno in cui le regole le fai solo tu le cambi a tuo piacimento e se non vinci annulli la partita poi però devi trovare qualcuno disposto a giocare con te buona fortuna grazie 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 grazie